Nell'arte bisogna oltrepassare i confini per capire dove si trovino. Non è che ti avvicini al bordo e guardi cosa c'è al di là, vai direttamente oltre. Credo che questo Manzoni lo abbia sempre fatto. Quando l'arte era considerata una cosa seriosa, Manzoni utilizza l'umorismo per la sua vita. Un'umorismo per sovvertire l'establishment artistico. Molte delle cose successe negli ultimi 50 anni sono state influenzate da Manzoni. Un'umorismo per sovvertire l'umorismo per sovvertire l'umorismo per la sua vita. Un'umorismo per sovvertire l'umorismo per la sua vita.